Presidente Sebastiani, l'ultima novità sul fronte mercato è la risoluzione di Mirko Valdifiori, come si è arrivati a questa decisione? Che era anche un po' nell'aria, anche se forse è arrivata un po' a sorpresa, ma soprattutto poi che impatto può avere sul mercato in generale del Pescara? Ma no, era nell'aria perché poi Mirko, che è un ragazzo molto intelligente, ha capito che non faceva parte del progetto tecnico del mister ed è stato, devo dire, un professionista esemplare fin tanto che è rimasto e quindi ci siamo accordati per chiudere qui l'esperienza in biancazzurro, anzi, addirittura gli avevo proposto se voleva continuare magari cominciare a fare qualcosa nell'ambito dell'area tecnica, però lui si sente ancora giocatore, vuole giocare, io gli auguro di trovare una soluzione che lo possa condentare. Questo famoso indice di liquidità, in tal senso la risoluzione di Valdifiori libera un po' il mercato del Pescara o va a fissare ad esempio l'innesto di Derisio? No, 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 noi obiettivamente abbiamo un problema di lista, non abbiamo un problema di poter fare operazioni, perché comunque sia con quello che abbiamo fatto in uscita, in entrata, siamo a posto e quindi non abbiamo nessun problema da quel punto di vista. però abbiamo un problema di far uscire dei giocatori che obiettivamente sono in lista e non fanno parte del progetto tecnico. Stiamo lavorando, il direttore sta lavorando per questo, cercando di trovare delle soluzioni a tutti questi ragazzi che sono qui. Poi è chiaro che ci deve essere anche la volontà dei ragazzi, perché qui mi sembra che negli ultimi anni alcuni giocatori l'ultimo problema che hanno è quello di andare a giocare, quindi si fa doppia fatica, però vedremo da qui alla fine. Possiamo dire che Marilungo, Galano e Rizzo sono le priorità, anche perché da quello che notiamo si allenano anche a parte, mentre giocatori ad esempio di cui si parla come Bocic, Frascatore, continuano ad allenarsi in gruppo, quindi potrebbero essere in uscita anche lo stesso Onzita, ma in realtà possono anche tranquillamente restare. Noi non abbiamo mai parlato di uscite di Bocic, di Inzita, di Frascatore, sono giocatori che sono stati da sempre nel progetto tecnico, nell'organico, il mister li ha sempre tenuti in considerazione. Su Onzita si è espresso più volte perché ha una grande stima del giocatore e chiede al ragazzo di comportarsi da professionista, perché secondo me può fare molto. Per gli altri purtroppo sono fuori dal progetto, un po' per scelta tecnica, un po' perché ci sono messi anche loro fuori dal progetto, perché dobbiamo essere onesti, non è sempre colpa di qualcun altro, quindi bisogna trovare delle situazioni, forse fa storia a parte Marilungo, perché noi giocando con un attaccante solo è chiaro che non c'entra nulla, diciamo, Marilungo come giocatore c'entra proprio che non trovi spazio, quindi quello sì, ma per il resto credo che per Galano e Rizzo sia un discorso completamente diverso da tutti gli altri, perché Rizzo è arrivato voluto fortemente da noi e credo che probabilmente non aveva la testa giusta per essere qui, perché uno che fa quello che ha fatto Rizzo nelle ultime dieci partite credo che veramente debba essere richiamato al dovere, perché non si può fare quel gesto che ha fatto nella partita dove è stato squalificato per quattro turni, non si può arrivare in ritardo dopo nove giorni di vacanza, quindi è giusto che si trovi una collocazione. In Galano purtroppo ne parliamo da giugno, la sua volontà è stata sempre quella di andare via, però il giocatore dovrebbe capire o accettare qualsiasi cosa, perché se vuoi andare via devi accettare qualsiasi cosa, oppure devi capire quello che c'hai e quello che non c'hai. Io credo che un giocatore come lui, se si fosse messo nella condizione di fare il suo e magari aspettare o la scadenza del contratto a gennaio, in un'altra maniera probabilmente oggi avrebbe la fila per quelle che sono le qualità di Cristian. Il Pescara è nelle condizioni di poter dare anche un piccolo incentivo all'esodo o si tratta della volontà del calciatore di abbassare un po' le pretese, perché immaginiamo che certi contratti anche in B ora non si possono più firmare in piena pandemia? Ma per quanto mi riguarda posso assicurarti che per me rimarranno qui tranquillamente, gireranno il campo per tutto l'anno, perché non c'è mai stata nessuna volontà della società di mandarli via, e lo sapete bene, se uno vuole andare via poi deve avere anche le palle per fare delle scelte. Circa dei nomi in entrata, anche se ora immagino che le priorità sono sempre le uscite, si parla con insistenza di Minelli per la difesa, si parla di Collodel per quanto riguarda il centrocampo, si parla di Borello ad esempio per l'attacco, ci sono delle priorità in entrata, se sono nomi credibili quelli che ho appena riportato? Mi viene da sorridere perché, tranne Minelli, per il quale ci siamo anche spesi pure noi, ma sarebbe stato un nome in entrata se fosse uscito uno di quelli che abbiamo, perché oggi noi siamo al completo lì come reparto, abbiamo giocatori che sono assolutamente affidabili, per il resto noi non siamo su quei giocatori, né Collodel, né Borello, se dovessimo oggi decidere di fare qualcosa, sicuramente se dovesse uscire un attaccante lo facciamo là davanti. L'attaccante che sia centravanti oppure cercate più un esterno, ad esempio con Galano fuori dal progetto, un'alternativa a Clemenza, anche se poi c'è il giovane Chiarella. Sì, però l'alternativa a Clemenza, io credo che se uno vuole puntare sui giovani, perché sennò poi facciamo discorsi che non hanno senso, se uno vuole puntare sui giovani, o ci punta sui giovani, perché se poi devo andare a prendere un altro Clemenza e mettere dietro Chiarella e Delemona, a questi qua è inutile, sto prendendo in giro i ragazzi, quindi per noi noi siamo convinti che sia Chiarella che Delemona possano fare quello che chiede il Ministero, per cui se dovessimo andare sul mercato probabilmente prenderemo all'occorrenza una punta centrale con caratteristiche diverse. Questo vuol dire che De Marchi è un papabile anche lì per un'uscita, visto che avete messo dentro anche Blanuta dalla primavera? No, De Marchi può giocare anche esterno, quindi non è un problema, poi è chiaro che se De Marchi dovesse chiedere di andare via è un discorso, però noi siamo contenti di De Marchi, deve ritrovare la brillantezza dell'inizio, però all'inizio ci ho fatto vedere quelle che sono le sue qualità, le qualità rimangono, non si dimenticano. L'ultima sul fronte mercato, fronte portiere, con Sorrentino in grande ascesa, evidentemente uno tra Di Gennaro quando recupererà e Iacobucci sarà di troppo, che scelta farete? Io credo che rimarremmo così, perché Di Gennaro sta recuperando in fretta, sta facendo tutto, credo che a fine mese sarà disponibile per giocare. Iacobucci l'abbiamo preso, ha dimostrato quando è stato chiamato in causa di essere un ottimo portiere, e Sorrentino che è il nostro giovane sta facendo benissimo. Tre portieri li dobbiamo avere, dispiace perché sicuramente purtroppo avere magari Sorrentino titolare dietro due portieri di quel calibro non è da tutti, però purtroppo se Di Gennaro fosse stato senza infortunio probabilmente sarebbe il titolare inamovibile. Iacobucci farebbe il titolare in tutte le squadre di Serie C e Sorrentino sta dimostrando che lo può fare tranquillamente alla grande. Presidente, chiudiamo con la questione societaria, noi tempo fa parlammo di un incontro a Parma con rappresentanti di Radrizzani, se ci può dare un aggiornamento, se è successo qualcosa, se può smentire? Assolutamente sì, non ho incontrato nessuno a Parma. Smentisce quindi? Assolutamente sì, non ho incontrato i rappresentanti di Radrizzani che, ripeto, ho già detto in un'altra occasione, non conosco personalmente e quindi smentisco perché non vorrei che magari qualcuno pensasse che metti in giro delle voci che non sono, assolutamente. Non ho incontrato nessuno a Parma, chi vuole comprare Pescara sa dove sta Pescara e quindi dovrebbe venire a Pescara, non in altri posti e quindi, però, siccome le trattative le sto portando avanti io in prima persona e sono trattative molto serie, io mi auguro che nel brevissimo tempo possa concludere una di queste che significherà o rafforzare la società o sostituire completamente Sebastiano. Ecco, quindi lei ha invitato qualcuno a Pescara per i prossimi giorni? Ma sì, vedremo, vedremo che in prossimi giorni qualcosa succederà. Se ci può dire anche la provenienza di questi investitori, di questi gruppi, perché da come parla, sembra che ci siano più fronti aperti. La provenienza sono sempre persone che stanno nel mondo, che sono già nel mondo del calcio, non sono chiaramente italiani perché in Italia abbiamo fatto scappare fiorfiori di imprenditori dal calcio, quindi evidentemente non è così amato questo mondo, però invece negli altri paesi, soprattutto in America, questo sport è amato, ma è amato anche perché hanno una cultura diversa, una visione diversa dello sport, quindi loro vedono lo sport come dovrebbe essere visto, come un'azienda, come una possibilità per fare azienda, non tralasciando chiaramente i risultati sportivi. Quindi mi auguro che si possa chiudere una di queste situazioni. L'ultima, siccome ho visto che tra Cesena, Pistoiese, squadre dello stesso Girono del Pescara, proprietà chi dall'America, chi magari dalla Germania, si sente sempre parlare di Inghilterra, sono questi un po' i fronti probabili? Sì, sì, ma tanto no. In questo momento questo paese ha un appello importante nel calcio per quei paesi lì, quindi speriamo che anche il Pescara possa cogliere questa opportunità, perché questo significherebbe in prima battuta rafforzare la società molto e poi probabilmente magari ci sarà un periodo di interregno nel quale per garantire queste persone il sottoscritto dovrà rimanere per... Il direttore generale, ad esempio. Ma io posso rimanere pure come usciere, l'importante è che garantisca loro che quello che gli stiamo raccontando è vero e quindi è giusto che sia anche così, perché io la faccia ce l'ho sempre messa e ce la continuerò a mettere. Mi auguro, certo, se trovassi uno che mi dice, vabbè, eccoti 100 euro per il Pescara, per te, per quello che sia, vattene via, sarai il più contento, ma purtroppo non è così semplice. Però stiamo lavorando per cercare di dare un futuro importante al Pescara.